E' il giorno del derby qui a Cistena, Real Quadrifoglio, seconda forza del campionato con un turno ancora da giocare, affronta in casa proprio il Macir Cisterna in questo grande appuntamento che proprio per la cittadina di Cisterna riveste un'importante vetrina del calcio a 5 provinciale. La più cordiale buonasera da Daniele Porcelli e la palla che praticamente sul centro del campo e in questi istanti parte il confronto con l'esclusione dal primo minuto di gioco di Ramirez Xavi, intanto la possibilità, Portas palla ribattuta, c'è Troiano, fa partire Guastaferro e il tiro non poi perfetto però ha provato lo stesso Pizzoli, Barbierato carica il tiro risposta sicura da parte di Ciattaglia che però può soltanto allontanare Pizzoli in mezzo, scappa il pallone a Criscuolo che era ben appostato arriva il tocco deciso di Antonio Portas e per lui è un gioco da ragazzi spedire la palla in fondo alla rete per il gol del vantaggio Loretti poi Guastaferro va a cercare Troiano, Portas va a lottare il fallo e c'è il gol del pareggio con Troiano ed è l'uno a uno cambia ancora il risultato Calcio di punizione, se ne incarica Ponzo, distanza siderale accorciata prova la soluzione, il gol del vantaggio, nuovo vantaggio per quanto riguarda il Real Quadrifoglio, mettere in pericolo la porta del Real Quadrifoglio, prova Criscuolo e chiama l'intervento rizzato, Guastaferro, Ponzo con un gioco da ragazzo poi soltanto l'esterno della rete, Fufana, Ramirez in mezzo per Ponzo, attende l'inserimento e arriviamo a ritardo sul gol del 3 a 1 di Ramirez c'è Barbierato, molto più arretrato, molto propositiva la formazione adesso e Barbierato fa un gioco da ragazzi, la spedisce nel rete, segue perfettamente il taglio di Ramirez Giavi fino ad illudere l'intervento da parte di Chattaglia e spedire la palla in rete per Valerio Barbierato non ci sono assolutamente problemi prova ancora la possibilità questa volta è Ponzo non ci sono assolutamente momenti da perdersi in questa gara, il gol questa volta è di Ponzo Ponzo gira rete direttamente la palla ribattuta Troiano, ora Troiano addirittura si trova a 12 il palo salva il Real Quadrifoglio sulla girata a rete da parte di Loretty tiro libero parte il tiro direttamente fuori Ponzo Ramirez prova la fiondata ribattuta da Chattaglia e Ponzo Ramirez Ponzo fuori di poco Guastafero ora dalla parte sinistra si fa soffiare il pallone siniscalchi prova il diagonale Barbierato Ramirez Perez per Fufana soltanto sull'esterno della rete respinto da Criscolo che adesso parte fa tutto da solo per Cris per Federico Troiano che si fa trovare puntuale all'appantamento e per lui il gol è molto inimportante prolungato è in due circostanze Cannella Barbierato lo mette fuori di poco del Magi di Cisterna che lo beffeggiano poi lancio lungo da parte di Criscuolo verso Guastafero Pizzoli in mezzo per Barbierato ancora lesto Criscuolo un 3 contro 1 prova non ha scaricato ha fatto tutto da solo Guastafero di Prospero prova toglie il pallone va anche alla conclusione recupera Pizzoli ancora Ramirez disturbato dal giocatore Amadi prova ancora Amadi interessante questa giocata Pizzoli poi la palla in mezzo di Barbierato Ramirez adesso Guastafero c'è un errore l'1-2 ancora all'indietro verso Ramirez Perez che prova dalla distanza Cannella allontana Pizzoli e da indietro Pizzoli Cannella Ramirez Perez che perla sotto la traversa il tiro dello spagnolo e si riaccende che riesce a portare via il pallone dalla sua metà campo ma ciucca rizzato ancora in mezzo con il tiro di Guastafero finisce fuori di poco Barbierato Guastafero chiede il fallo non gli viene accordato e poi il tiro di Ponzo che va a correggere un perfetto assist in diagonale di Ramirez Javi e sono 7-2 si allargano i giocatori del Real quadrifoglio con Ponzo che va via prima Guastafero poi va anche a calciare Cannella gli nega la gioia del gol Criscuolo Fufana ancora all'indietro per Ponzo e la palla finisce in rete per l'8-2 Ramirez Perez Ponzo il poker personale per lui lo manda in fallo laterale Ramirez Javi e poi il tiro di Ponzo Cannella il virato Ramirez la serie di finte poi si accentra Cannella ci mette le mani continuamente scambia con Ponzo poi si accentra la mette in fondo alla rete arriva qui il triplice fischio si chiude anche il derby di ritorno e il Real quadrifoglio praticamente batte ancora sonoramente il cisterna questa volta con un risultato diverso 10 a 2 la 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 alla la 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 le le la